Ciao a tutti amici WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere sempre sul media nav di questa Dacia Sandero Stepway anche la funzione di, oltre al collegamento del Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay. Vi ricordo che su questa vettura abbiamo già fatto un Focus Infotainment ma soprattutto usciranno altri video, sempre sulla serie Sandero Stepway, come un video sui consumi, un test drive e altri video, perché comunque l'auto, essendo mia, quindi saprò dirvi tante cose magari anche in un video dopo i primi 50.000 km, i primi 100 e così via, tanti. Quindi seguiteci, mi raccomando, se siete appassionati del marchio. Certo, questa Dacia, quella che ho io, è un modello precedente nel senso che è uscito in un nuovo modello, infatti vi ricordo anche il link in basso e qui in alto nelle schede il link al video che abbiamo fatto sulla Dacia Sandero Stepway e normale, nuova, uscita nel 2020, qualche giorno fa. Però, ripeto, quest'auto, soprattutto per il prezzo, l'apporto qualità-prezzo, è davvero un'auto da comprare con la testa, come ho fatto io praticamente e quindi, appunto, secondo me è ancora un po' sconosciuta e quindi è giusto che la studiamo insieme. Ma adesso andiamo al Bluetooth, a collegare il telefono. Allora, prima di cominciare, tolgo il Bluetooth al mio telefono che è collegato nativamente, diciamo, con questa vettura e provo a collegarmi col telefono, con questo iPhone. Allora, vado su Impostazioni dell'iPhone, accendo il Bluetooth, vado su Impostazioni e ho scelgo la connettività, quindi magari posso ricercare il dispositivo Bluetooth. Ecco, WeDrive Carlo. Un po' lentino, però. Il codice è lo stesso, abbina. Perfetto. Abbinato. Ok, adesso è collegato. Vado a vedere se... Sì, perfetto, è collegato. Perfetto. Allora, adesso funziona, come vi ho fatto vedere nell'altro video che vi ricordo di andare a vedere, vi lascio il link in descrizione e qui in alto nelle schede. Adesso sono stato nel telefono di Carlo, quindi nell'elenco delle chiamate ci sono le sue chiamate e così via. Ma adesso andiamo a vedere come funziona Apple CarPlay. Prendo il cavo dell'iPhone, lo inserisco qui. Inserisco qui. Ok, avviare Apple CarPlay? Sì. Ci sono tre link qui nella scherbata, uno generico, uno del telefono e uno multimedia. Cosa intendo? Se io vado per esempio in Multimedia, non mi apre la multimedia del sistema MediaNav, ma mi apre appunto la multimedia dell'iPhone. Infatti adesso, se voglio tornare indietro, MediaNav, solo su MediaNav. Mentre se clicco qui su Apple CarPlay, diciamo generico, mi apre l'Apple CarPlay. Vedete? Solita impostazione grafica di Apple CarPlay, davvero molto molto comodo. Ma adesso vi faccio vedere, scusatemi, come funziona Android Auto. Molto semplice. Stacco, in questo caso, Android, scusatemi, l'iPhone. Attivo il Bluetooth. Prendo il cavo dell'Android. E collego il telefono. Perfetto. Android Auto. Davvero molto 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 semplice. Impostazioni diverse rispetto a Apple CarPlay, chiaramente, però, vedete? Davvero molto molto semplice. Oh, perfetto. Abbiamo visto un po' il funzionamento di sia il collegamento del Bluetooth che il collegamento con Android Auto e Apple CarPlay. Beh, ragazzi, che dire? Quest'auto, comunque, per quello che costa, ha comunque un senso e soprattutto ha delle, queste feature, diciamo così, tecnologiche che magari altre auto hanno, ma costano molto di più rispetto a questa. Quindi, davvero, io personalmente mi trovo davvero benissimo con tutti questi sistemi. Certo, ci sono alcuni bug, soprattutto su Android Auto, ma quello non dipende dalla vettura, dipende soprattutto dal telefono, perché non tutti i telefoni hanno, diciamo, un collegamento al 100% ottimale con la vettura. Però, davvero promosso. Bene, io vi lascio e vi ricordo che potete trovarci su qualsiasi piattaforma che pensate semplicemente col nome di WeDrive.tv. Al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.